Da lunedì 20 settembre in tutta l'Asla Toscana Sud-Est parte la somministrazione della terza dose di vaccino anti-covid con Moderna oppure Pfizer. Ad avere la priorità sono le persone estremamente fragili che rientrano nelle categorie stabilite dal Ministero della Salute. I pazienti affetti da patologia oncologica o oncoematologica e che sono in trattamento con farmaci immunosoppressivi o mielosoppressivi o li hanno terminati da meno di sei mesi ed abbiano eseguito il ciclo vaccinale primario con ultima dose somministrata da oltre 28 giorni. In questa fase nell'area sud-est sono circa 8.000 le persone interessate alla terza dose. I pazienti più numerosi sono i dializzati, i trapiantati, gli immunodepressi, gli oncologici in terapia o con terapia interrotta da meno di sei mesi. I nostri reparti stanno contattando tutte le persone indicate nella tabella regionale, spiega il direttore sanitario della USL Toscana Sud-Est, Simona Dei, invitandole a presentarsi sia nei centri specialistici ospedalieri che negli hub vaccinali già da lunedì. La nostra organizzazione è ormai rodata e siamo pronti ad accogliere queste persone in tutti i centri vaccinali. Andremo avanti nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali continua Dei in contemporanea con il completamento del ciclo vaccinale di tutti gli altri cittadini. Questa terza dose è importante per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria, soprattutto in persone che stanno attraversando un periodo di cura molto delicato, ha dichiarato Carlo Milandri, direttore di oncologia degli ospedali riuniti a retini. Il nostro staff, prosegue Milandri, è impegnato per far sì che tutti vengano raggiunti e si possano vaccinare nel più breve tempo possibile. È fondamentale che i pazienti aderiscano alla chiamata. Le persone che appartengono alle categorie target, qualora non venissero contattate, potranno rivolgersi direttamente agli hub vaccinali e per informazioni ulteriori possono contattare il call center aziendale al numero 800 43 25 25.